Sono contento di iniziare una nuova stagione, fisicamente sto abbastanza bene, recuperando di 30 giorni di vacanze importanti, quindi iniziare questo ritiro al 100%. L'anno scorso ho detto di voler una doppia cifra, invece quest'anno sono più ambizioso, secondo me una ventina manderebbe bene. Sono un tifoso della Nazionale e penso a lavorare con il mio Palermo per prepararmi per questa nuova stagione, mi avrebbe piaciuto giocarla, però sto pensando adesso nella preparazione. Adesso iniziamo tutto, un nuovo ciclo, ho visto dei bravi ragazzi, però ci dobbiamo conoscere, stiamo a più di 25 giorni per la prima partita e dobbiamo essere concentrati, professionisti per lavorare, per raggiungere i nostri obiettivi. Una buonissima accolienza, non abbiamo parlato neanche una parola di calcio ancora, però ci avremo il tempo, abbiamo una ventina di giorni, quasi 24 su 24 per parlarne. Io sono molto contento e molto tranquillo, spero di prendere un posto di titolare, lottare con le mie armi e dimostrare in campo che devo giocare.